Erano le 19.30 di sabato 8 maggio quando il 112 era arrivata la segnalazione di un'aggressione avvenuta alla Rocca Malatestiana di Fano ai danni di due amici pesaresi, uno colpevole di esibire uno smalto nero alle unghie, l'altro per averlo difeso. Il giovane di 17 anni era stato pestato a sangue con calci e pugni tant'è che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Aveva riportato contusioni alla testa e le fratture del setto nasale e di un dito. Le due vittime erano state anche derubate. Oggi, dopo le accurate indagini condotte dal commissariato di Fano, diretto dal dirigente Stefano Seretti, gli agenti hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone facenti parte del gruppo che, per futili motivi, avevano compiuto questi atti di teppismo. Le misure sono state adottate dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pesaro su proposta della Procura della Repubblica. Infatti, i poliziotti, dopo un lavoro difficile e minuzioso e grazie alle telecamere di alcuni privati della zona, sono riusciti a ricostruire due distinte e ravvicinate azioni predatorie attuate dagli adolescenti. Nel primo caso, avevano fermato e accerchiato l'auto di due persone e li avevano costrette a consegnare un braccialetto e un cellulare. Pochi minuti dopo, invece, avevano raggiunto il parcheggio di fronte alla Rocca Malatestiana, dove avevano sottratto un cellulare e un marsupio, ai due pesaresi di passaggio. E in quel caso, il 17enne, che aveva tentato di difendere l'amico, era stato aggredito brutalmente da alcuni componenti del branco. Le indagini dei poliziotti, coordinati dalla Procura, hanno permesso di identificarli tutti. Si tratta di otto giovani, di cui quattro minorenni ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata e continuata. In base agli accertamenti, in entrambi gli episodi avevano assunto dell'alcol, che aveva comportato pesanti provocazioni nei confronti delle vittime, esternando odio, denigrandole l'aspetto fisico e ricorrendo alla violenza. Questa mattina sono stati portati nel carcere di Villa Fastigi tre ragazzi, rispettivamente un moldavo 21enne residente a Fano, già noto alle forze dell'ordine, un italiano di origine nord-africana e un marocchino. Gli altri minorenni invece sono stati denunciati, ma uno di questi è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in un istituto per minori a Bologna, a causa dell'aggravamento di un provvedimento soccarico già in atto.